E che sorprese nello chalet di montagna! Lui si riposa e Sofì gioca sulla neve! Pista di pattinaggio e chalet di montagna, ma è contro te! Nerf Dino Squad! Quando i dinosauri si trasformano in blaster, le tue sfide sono leggendarie! Scegli il Rex Rampage, potente e motorizzato! Il Trichera Blast, agile e veloce! O lo Stegosmash, preciso e compatto! I dinosauri diventano blaster con Nerf! È arrivata la nuova pizzeria di Play Doh! Crea pizze esagerate, per mitiche impornate! Montagne di ingredienti, per pizze sorprendenti! Con la pizzeria di Play Doh, il pizzaiolo sei tu! L'armadio dei sogni di Barbie! Gira il portaabiti e scegli il tuo look! Per andare a una festa, essere una dottoressa o fare immersioni! Poi chiudilo e portalo con te, per giocare dove vuoi! E scopri il food truck di... ... ... Anche la piscina! Troppo divertente! Facciamo i marshmallow? Preparati per la prossima avventura sul camper dei sogni! Con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri! È arrivato il cocco dentista! Il coccodrillo apre la bocca, vediamo un po' chi tocca! Se il dente ha una carie, le fauci chiuderà! Parte la sfida! Sfiora un dente, poi un altro! Ai ai ai, che paura! Quanto divertimento con cocco dentista! Cocco dentista da Hasbro Gaming! Da Furreal è arrivato il mio orsetto Cubby! Adoro prendermi cura di lui! Daregli il suo biberon, pettinarlo e giocare con lui! Cucu Cubby! Sempre insieme fino alla ninna nanna! Ti voglio bene! Cubby, il mio orsetto curioso! Apriamo la Cartonito App e scegliamo, io e te papà, cosa vedere su Cartonito! La scelta di questa settimana è tra... Sei pronto, Piccolo? Prontissimo! Le corse di Blaze e le megamacchine e le avventure in sella insieme ai Dino Ranch! Nella fattoria con i simpatici dinosauri! Scegliamo, io e te papà, cosa vedere venerdì la sera alle sette e mezza su Cartonito e sulla Cartonito App! Happy! Non è forse l'ora di... Pianchi!